Buon pomeriggio, siamo nel salotto di Radio Radio per conoscere due candidati alla corsa per il Senato. Insieme a Luigia Luciani, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, è un confronto molto atteso questo, anche perché porteremo a casa sicuramente due voti, lo dico subito ai candidati. Ci sono anche gli altri, comunque certo. Due per il territorio, adesso svegliamo pure il perché. Allora, abbiamo qui questo pomeriggio che lottano per un seggio al Senato nel collegio uninominale di Roma 4, un collegio molto misto, c'è la Roma Nord, la Roma Benestante, ma ci sono anche quartieri molto popolari e credo che questo poi rappresenti un problema, ci sono veramente problemi misti, mischiati. Allora, Lavinia Mennuni, fratelli d'Italia, buonasera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti voi. E Pierpaolo Sileri per il Movimento 5 Stelle, buonasera. Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito. Ecco, allora, incominciamo subito a chiedervi, ma voi avete più difficoltà a spiegare gli argomenti della campagna elettorale o il governo che dovrà affrontare poi i grandi temi che vengono fuori, i grandi temi, i grandi problemi dell'Italia? Mi spiego meglio. Per esempio, nel centro-destra, chi sarà il Premier? E ci sarà l'inciucio? Tra l'altro questo è un problema molto sentito in Fratelli d'Italia. Mennuni. Ma dunque, noi pensiamo che ovviamente i cittadini abbiano a cuore quelli che sono i temi che stanno loro a cuore. Uno dei temi fondamentali che sto riscontrando in questa campagna elettorale sono risposte chiare, per esempio, sul tema dell'immigrazione, piuttosto che sul tema della sicurezza. C'è una grande percezione di insicurezza su tutto il territorio romano. Io, peraltro, sono candidata capolista sul proporzionale che abbraccia quasi tutta la città di Roma, oltre che candidata nel collegio uninominale 4 del Senato. Quindi è un tema che veramente ci arriva da tutte le zone della città, risposte sul tema del lavoro, restituire dignità al lavoro e soprattutto delle certezze per quei giovani che, per esempio, vorrebbero mettere su famiglia e che invece, con stipendi ridicoli o contratti che vengono rinnovati trimestralmente, veramente hanno difficoltà a portare avanti quello che è un progetto di vita per loro fondamentale, ma anche un progetto fondamentale per la nazione tutta, perché è una nazione che non fa figlia, è una nazione che non ha un futuro, così come l'esigenza di accrescere il turismo e di andare quindi a trovare risorse per la città. Ciò detto con Giorgia Meloni abbiamo avuto una grandissima e bella partecipata manifestazione pochi giorni fa all'Altare della Patria, dove siamo andati a prestare un giuramento. Noi giuriamo che non andiamo e non andremo a tradire quelle che sono le promesse fatte ai cittadini e al popolo italiano. Abbiamo un programma chiaro, che è il programma di Fratelli d'Italia, auspichiamo che Giorgia Meloni possa diventare il nostro premier, perché riteniamo che si debbano dare delle ricette molto chiare per uscire da questa situazione di gravissima crisi a livello nazionale, nella quale siamo purtroppo precipitati. L'Italia è una grande nazione, abbiamo la potenzialità per farla riemergere. La stessa domanda evidentemente a Sileri per il momento 5 Stelle, per voi è chiaro chi sarà il premier nel caso vinceste le elezioni, ma bisogna vedere se avrete una maggioranza e nel caso che governo immaginate? Esatto, noi abbiamo già un premier, cosa che invece non ha ancora indicato il centrodestra e francamente nessuno di noi lo sa, forse non lo sanno nemmeno loro. Voglio fare una piccola premessa, la campagna elettorale fatta fino ad oggi in questi 15 giorni ha solamente visto piccoli scandali, trasformati in scandali dalla stampa, ma non si è parlato dei veri problemi degli italiani, che sono l'università, la ricerca, la mancanza di soldi, di lavoro, la sanità, tutti i problemi che per 15 giorni non sono stati assolutamente discussi. Per quanto riguarda quello che succederà dal 5 marzo, lo sapremo il 5 marzo, anzi forse lo sapremo già il 4 sera quando vedremo le proiezioni. C'è ancora un terzo degli italiani indecisi, un terzo degli italiani che forse non andrà a votare, che dobbiamo far andare a votare. Io rimango allibito quando le altre parti politiche dicono che c'è un voto utile, come se altri voti fossero inutili. Il voto è sempre utile purché si vada a votare per chiunque si voti. È chiaro, io sono del Movimento 5 Stelle e dico votate 5 Stelle, ma l'importante è andare a votare. Un voto anche dato a un piccolo partito è l'espressione di democrazia. Vedremo dopo il 5. Noi abbiamo 20 punti per gli italiani, 20 punti per migliorare la qualità di vita degli italiani. Chi sarà su quei 20 punti sarà un ottimo alleato, ma lo vedremo dopo il 5. Io rimarrei un attimo sul tema della governabilità del Paese, perché lei ha detto bene, giustamente ha parlato per l'impegno di Fratelli d'Italia, giustamente ritorna sulla questione Premier. La scorsa settimana abbiamo fatto proprio ascoltare le parole dell'onorevole Giorgia Milone, anche con questa difficoltà, secondo l'onorevole Milone, di accettare eventualmente un Premier donna. Nella giornata di ieri abbiamo ascoltato di nuovo invece Salvini, la questione di Berlusconi. Insomma, non c'è chiarezza da questo punto di vista. Però la questione della governabilità del Paese dopo il 5 marzo è un problema serio, secondo lei, voglio una risposta chiara e netta. Allora, noi siamo vicini a quel 40%, perché i sondaggi ci danno intorno al 39-39,5%, per riuscire a garantire la governabilità della nazione, a differenza del 5 Stelle, a differenza del PD, che sono lontani, anni luce, dal raggiungere quel 40%. Quindi l'alternativa, a mio modo di vedere, è molto semplice. O vince il centrodestra a queste elezioni, e lo può fare, basta uno sforzo dei nostri amici, dei nostri simpatizzanti, oppure ci sarà effettivamente, come lei giustamente dice, e sono molto preoccupata di questo, il caos nazionale e l'ingovernabilità nazionale. Io voglio rimanere su questo tema, perché lei diceva, professore Pocansi, poniamoci il problema dal 5 marzo, che in questi 15 giorni non si stanno affrontando determinati temi, però nel momento in cui si fanno certe domande anche al Luigi Di Maio, candidato premier per il 5 Stelle, si è notato, dica lei, se è stata la stampa da questo punto di vista, un pochino di contraddizione. E gli elettori del 5 Stelle, che sono molto duri, e sono molto puri, probabilmente l'hanno intravista. È così che stanno le cose? Non credo che sia così, credo che la stampa, un certo tipo di stampa, alteri un po' le frasi che vengono dette. Ripeto, vedremo dopo il 5 quello che accadrà. Ora vorrei solo rispondere alla collega candidata. Io non starei troppo dietro ai sondaggi, perché mia nonna diceva che chi si loda si sbroda, il rischio è che se poi non è il 40%, e magari è un 32-33%, io aspetterei davvero il 4%. Un 30% di italiani è tanto e può muovere davvero l'ago della bilancia. Non ci scordiamo che gli ultimi sondaggi sono stati quasi tutti sbagliati, in tutte le forme, dal referendum alle europee del 2014, eccetera. Quindi io francamente aspetterei un attimo a parlare di sondaggi in governabilità del Paese. Peraltro, nella vostra coalizione, se non ricordo male, Giorgia Meloni ha perso Roma, proprio perché Silvio Berlusconi non l'aveva appoggiata e fu appoggiato Alfio Marchini. Quindi forse questo era solo due anni fa. E aggiungo anche un'altra cosa, voi in coalizione avete Salvini che solamente un anno e mezzo fa diceva Roma ladrona e quando Totti segnò al Torino due gol, asserì che Totti rappresentava Roma ladrona. Quindi non ci dimentichiamo che è una cozzaglia di partiti che fino a un anno e mezzo fa non andavano nemmeno d'accordo. Guardi, loro si sono infatti incontrati, hanno fatto un grande lavoro per ridigere quello che è un programma comune. E io sono molto fiera del lavoro che per esempio Giorgia Meloni ha fatto in quella sede perché ha chiarito ed è stato firmato da tutti quanti i colleghi della coalizione, quindi da Salvini, da Berlusconi, innanzitutto quelle che sono le priorità che debbono essere condivise nel momento in cui noi andremo al governo nazionale. Allora, per esempio, una delle nostre priorità è un grande, imponente piano per la natalità perché, come dicevo prima, abbiamo bisogno di sostenere le mamme, lavoratrici, le donne, i papà che hanno oggi il coraggio di mettere al mondo dei bambini. Noi abbiamo fatto presente, per esempio, a Salvini, essendo noi il partito che sicuramente ha un grandissimo radicamento a livello romano, perché Fratelli d'Italia lo è, Giorgia Meloni, ricorderei, che rappresentava all'epoca un piccolo partito che sta crescendo perché i sondaggi ci danno invece in grandissima crescita, nacque come un partito dell'1%, pochi anni fa e ha avuto un grandioso risultato alle ultime elezioni, da sola nella città di Roma con una grandissima affermazione, ha rappresentato l'esigenza che, per esempio, vi sia sì un sistema istituzionale di federalismo, che è quello che ci chiede la Lega, ma se c'è però un governo nazionale molto leggero, ma nel contempo forte, quindi immaginiamo un presidenzialismo, quindi come può ben vedere il fatto che ci sia una coalizione, il fatto che invece si vada al governo uniti con una pluralità di idee che vengono però congegnate e portate avanti con un accordo forte e solido, non può che fare il bene della nazione quando ci sono idee chiare su punti cari. Quindi non c'è più quel problema là. Allora, io devo fermarla perché mi sta uscendo dal format e ha avuto uno spazio in più, quindi poi recuperiamo... Io potrei... Avrà modo, perché io vorrei entrare un attimo nei problemi reali, che sono fondamentalmente quelli del lavoro. C'è ancora tanta disoccupazione, c'è un problema che stiamo vivendo in questi giorni, cioè aziende che hanno usufruito di finanziamenti pubblici che dopo poco chiudono, licenziano e delocalizzano. Per esempio Embraco, ma l'aveva fatto anche Aniwell. Allora, adesso, siccome ha parlato Livia Mennuni... Lavinia. Lavinia, sì. Mennuni, passiamo a Sileri. Come si interviene su questi casi, per esempio, sul fatto che ci siano aziende che prendano soldi e poi portino altrove la produzione? Come si creano nuovi posti di lavoro? È chiaro che un'azienda che ha preso soldi dallo Stato deve rimanere in Italia, ma questo depauperamento di aziende che escono dall'Italia è qualcosa che negli ultimi anni è stato sempre maggiore. Sarà necessario reinvestire ed aiutare queste aziende. Ora, il fatto che oggi sui giornali che vede Calenda, al centro dell'attenzione, non è un fatto di oggi. Il problema dell'Italia è che ci si accorge dei problemi solo quando scoppiano. È come in medicina, ti accorgi di un ascesso solo quando scoppia, quando invece ci sono dei sintomi prima che possono essere valutati. Ecco, dove era Calenda nei mesi scorsi, negli anni scorsi? Quando questa azienda, in qualche maniera, ha iniziato a programmare l'uscita dall'Italia. Ecco, ma voi che cosa vorreste fare? Sicuramente bisogna investire in posti di lavoro e aiutare le aziende con degli sgravi fiscali affinché possano reinvestire i soldi nell'azienda stessa. E allora, anche a Mennoni, la stessa domanda. Beh, dunque, noi ormai stiamo vivendo una situazione che, a mio modo di vedere, veramente ha dell'apocalittico, perché 5 milioni di povertà assoluta, 8 milioni di povertà relativa, sono i dati di un'apocalisse. E allora è per questo che intanto stiamo immaginando, e quindi andremo a realizzare, quello che viene chiamato in qualche modo uno shock fiscale, cioè ridurre drasticamente la pressione fiscale, che è fondamentale, soprattutto per i piccoli e per i medi, commercianti, imprenditori, in modo da dare loro respiro e possibilità, quindi di reinvestire le risorse che li rimarranno per rimetterle nel mercato. C'è un altro tema che, secondo me, è fondamentale. Attrarre risorse in termini di turismo. L'Italia è la più bella nazione del mondo e quindi noi dobbiamo andare ad implementare su quella che è una grandissima industria, che è quella turistica. E infine, noi siamo una nazione che non è, diciamo, in termini quantitativi, superpopolosa, ma possiamo investire sulla qualità. Quindi il nostro Made in Italy, andare a promuovere il nostro marchio nel mondo e rinforzarlo in modo tale da accrescere quelli che sono gli investimenti in questo settore importantissimo e fondamentale. Credo che saranno delle ricette chiare e precise che non potranno che dare crescita alla nazione. La replica in 30 secondi del professor Sileri, così pareggiamo i conti. Io e la collega siamo più o meno coetanei, quindi avevamo circa 20 anni, 22 anni, nel 94 o giù di lì. Io ne avevo 10. Nel 94? Mi piace questa precisione. Nel 94? È un'emozione femminile, peraltro. Non so, ok. Nel 94 aveva 10 anni? No, nel 94 ne avevo qualcuno di più, 17. 17, quindi il momento di votare. Bene. Queste cose, io le ho sentite quando avevo 20 anni, 22, le ha già dette Berlusconi nel 94, le ha ripetute successivamente, la flat tax già è stata detta, non è mai stata fatta. Eppure Berlusconi e fini allora hanno avuto l'opportunità di governare l'Italia. Come mai non sono state fatte queste cose fino a oggi? Come mai ci ritroviamo oggi nel 2018 a parlare delle stesse identiche cose? Cos'è che vi ha affermato nel farle quando eravate al governo e avevate la maggioranza per poterlo fare? Perché non l'avete fatto? Perché non è stato fatto? Io ero negli Stati Uniti... Non speriamo troppo dei 30 secondi, professore. 10 secondi glieli debbo. Poi così andiamo in parità e torno con un'altra domanda. Ci sono stati sicuramente delle alternanze di governo. Comunque non si era mai giunti ad una situazione di crisi drammatica come quella a cui stiamo arrivando adesso. Sicuramente comunque la soluzione non sarà quella di Di Maio che si è messo la giacchetta nuova, carina, per andare a Londra a parlare con le grandi multinazionali e mettersi d'accordo con loro e consegnare loro il governo nazionale dicendogli che andrà a fare un grande recupero crediti sui piccoli e sui medi imprenditori e commercianti già strangolati da questa situazione di crisi. Quella del 5 Stelle non è la soluzione per l'Italia. Sileri, Sileri. In verità noi le piccole e medie imprese le abbiamo aiutate... Un mese fa c'era andato? Sì, e lo sa che questo è stato quello che hanno concordato. Io non l'ho interrotta. Forse non se n'è accorto. Ma questo è quello che è successo. C'è un problema di traduzione anche perché lì ci fu un problema forse di interpretazione di traduzione reale. Però vorrei dire che le piccole e medie imprese noi le abbiamo aiutate dando indietro quelli che erano gli stipendi dei parlamentari. Cosa che invece voi non avete mai dato. Non tutti, mi pare che là qualche problema c'è stato. Eh, ma sì, insomma, dieci, otto, dieci... Non è un caso che ci siano quegli undici massoni che sono stati trovati nel 5 Stelle. Vogliamo parlare dei massoni che sono le tante stelle. Vogliamo parlare dei vostri... Quindi la prego parliamo dei tempi ma non cominciamo. Faccio replicare Sileri. Però, vede, la differenza che c'è è che io la lascio parlare e lei non mi lascia parlare. Quindi, la verità è che voi... Lei è l'atteggiamento più compassato però non ha detto che non sia... No, però... Mi piace comunque questo confronto. Vogliamo parlare dei vostri indagati di quelli fratelli d'Italia giù in Campania oppure no? Quelli sono indagati per corruzione. Attenzione! Però aspetta, però ascolti, ascolti. Io sono educato e pretendo educazione. Quindi mi faccia parlare e poi replica. Allora, qui parliamo di rimborsi che... o meglio, di stipendi che non sono stati donati indietro. Otto, dieci mere marce non lo hanno fatto. Mi sembra che voi abbiate avuti molti indagati o sbaglio. O ferma, 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 ferma... O anche... No, fermo lei. Scusi, scusi, mi faccia parlare. Sbaglio, o nell'aggiunta alemanno sono nati dei problemi per corruzione e ci sono ancora delle indagini aperte ed erano al comune di Roma. Perdoni, io l'ho vissuta a Roma, io a Roma ci ho vissuto, ci vivo. Perdoni, quello che abbiamo visto con l'aggiunta alemanno non si è mai visto da nessun'altra parte. Allora, rimandiamo però nel seminato perché altrimenti poi non si va avanti nel dibattito. Allora, replica finale della Mennoni e poi andiamo avanti con le domande. Allora, io sono stata consigliere comunale per diversi anni e le posso dire questo. Innanzitutto che la città non era mai precipitata nel degrado assoluto nel quale AIB è precipitata nell'ultimo anno e mezzo con il governo del sindaco Raggi. Di Battista si è giustificato dicendo ma noi non avevamo esperienza. Beh, i tirucini è disonesto farli pagare ai cittadini romani. Se la Raggi non era preparata per fare il sindaco di Roma forse era meglio che la Raggi andasse prima a fare il consigliere municipale come abbiamo fatto noi. Giorgia Meloni ha voluto candidare tutte persone integgernime che comunque non hanno mai avuto neanche la sfumatura di un avviso di garanzia. Io sono stata presidente della commissione patrimonio di Roma Capitale quindi so quant'è complicato amministrare una città per cui francamente io trovo che le sue osservazioni siano assolutamente inadeguate e fuori posto. E le ricorderei forse lei non se lo ricorda che io sono stata l'unico membro della commissione patrimonio a votare contro l'assegnazione a Buzzi mafia capitale di uno spazio di oltre 10.000 metri quadri quando il vice sindaco che fu nominato tale dal sindaco Raggi votò a favore dell'assegnazione a Buzzi e quindi a tutto quello scandalo di mafia capitale che tutti noi conosciamo di una sede di 10.000 metri quadri alla cooperativa 29 giugno quando da anni non si assegnava più nulla. quindi il candidato giù in campagna non l'ha scelto la Meloni? Guardi io credo questo io credo che lei adesso stia spostando l'attenzione perché non vuole parlare evidentemente dei temi seri che interessano le persone io sulla risposta relativa al lavoro ho sentito evasività sul tema dell'immigrazione gradirei sapere che cosa propone il 5 Stelle perché non l'ho capito sul tema dell'euro vorrei capire che cosa ci dice il 5 Stelle noi abbiamo una realtà il 5 Stelle che la mattina esce dall'euro e la sera decide di rientrarci questa è la solidità noi stiamo ancora aspettando il nome del vostro candidato premio speriamo che sia Giorgia Meloni su questo abbiamo fatto la domanda su questo abbiamo fatto la domanda d'altro canto Giorgia Meloni vuole arrivare ad essere la premia e se Silvio Berlusconi e poi Salvini non si mettono d'accordo su questo bisognerà aspettare il 5 marzo ecco però chi prende chi avrà un consenso maggiore andrà quindi esatto noi speriamo che Giorgia Meloni abbia un risultato d'eccezione i cittadini magari insomma lo vorrebbero sapere stiamo in una coalizione questo è legittimo mi consente tanto la facciamo a tutti i candidati di centrodestra questa domanda però sul territorio visto che sul territorio c'era proprio Stefano Molinari che a questo punto andrà in cabina elettorale e metterà una crocetta su uno dei due nomi perché trattasi proprio del tuo territorio Molinari è certo è un territorio molto vasto dicevo ci sono zone ad alto reddito e altre invece a basso reddito con problemi anche di ordine pubblico importanti per esempio San Basilio è una nota piazza di spaccio addirittura con una gestione del territorio da parte di organizzazioni criminali abbiamo visto molti servizi in cui addirittura ci sono le vedette ci sono i blocchi del traffico cioè tipo scampia no ecco come si cambia una situazione del genere credo che qua sia necessario un intervento a livello nazionale allora Mennuni dunque per quanto attiene al tema della sicurezza che per noi è assolutamente fondamentale c'è innanzitutto l'esigenza di andare a rinforzare quelle che sono le nostre forze dell'ordine queste sono persone che hanno degli stipendi oggettivamente bassi molto bassi mettono spesso a rischio le loro vite e quindi questo è uno dei segmenti fondamentali sui quali riteniamo di andare ad intervenire così come un altro dei segmenti sui quali non possiamo non intervenire è sulla garanzia della certezza della pena chiunque delinque nella nostra nazione deve sapere che andrà a scontare la sua pena nelle nostre patrie galere e quindi su questo noi non dobbiamo essere assolutamente transigenti ci ho detto è chiaro che abbiamo constatato ahimè e non è una cosa di cui ci si debba vergognare nel dirla che di tutti quelli che sono gli immigrati che sono venuti nella nostra nazione una alta percentuale purtroppo vanno a commettere dei piccoli reati quindi noi abbiamo l'esigenza innanzitutto di capire chi entra nella nostra nazione se ha diritto a starci perché altrimenti è chiaro che se continuiamo ad avere questi flussi migratori incontrollati con 500 mila persone che sono entrati negli ultimissimi tempi beh è chiaro che questo ci rende la difficoltà io comincio a stringere perché siamo negli ultimi quattro minuti altrimenti non ce la facciamo Sarò breve per quanto riguarda la lotta alla criminalità il programma di 5 Stelle nei 20 punti prevede un aumento dell'organico delle forze di polizia e carabinieri e ovviamente questo aiuterà un maggior controllo del territorio è chiaro che gli stipendi sono troppo bassi e molti di questi carabinieri e poliziotti si vedono offesi quando vedono arrestare qualcuno che dopo pochi giorni è di nuovo fuori quindi sicuramente leggi più severe processi più veloci e chi ha sbagliato deve andare in galera e deve essere punito Io tornerei quando mancano quattro minuti proprio alla chiusura su un tema importante a livello nazionale che è il discorso del rapporto Italia-Europa perché anche su questo c'è stato un momento in cui ad esempio due la coalizione di centrodestra con il movimento 5 Stelle poteva sembrare avessero delle idee comuni però anche su questo invece vorrei una maggiore chiarezza e Fratelli d'Italia da sempre peraltro batte su questo punto assolutamente sì noi crediamo che debba essere applicata una cosa che peraltro è applicata anche in Germania che è la più europeista delle nazioni che è la clausola di supremazia vale a dire che la nostra costituzione la nostra suprema carta deve venire sopra qualsiasi tipo di direttiva che ci provenga dall'Unione Europea in Germania se una norma europea un regolamento una direttiva europea contrasta con il bene economico nazionale viene semplicemente disapplicata allora noi riteniamo che debba venire la stessa cosa qui da noi è chiaro che l'Italia non può continuare ad essere il maxi campo profughi d'Italia perché noi abbiamo bisogno di dare comunque delle risposte prima agli italiani che stanno a naspando e stanno in difficoltà nei vari campi che tutti noi conosciamo credo che non faccia bene andare per esempio in trasmissioni radiofoniche come queste invece che a parlare dei temi e dei problemi andare a rivendicare chi ha più o meno avvisi di garanzia perché mi perdoni cioè noi abbiamo il sindaco Raggi che sta affrontando un processo molto serio a livello romano io sinceramente ho ritenuto di non richiamarlo perché noi creiamo un atteggiamento garantista da parte di tutti perché gli indagati ce ne sono in maniera trasversale e affettare quelli che sono i risultati della magistratura rimaniamo sull'Europa perché in un minuto poi anche il professor Silenio quindi con l'Europa se sarà necessario bisognerà anche dimostrare i denti qualche volta perché noi dobbiamo avere una nazione che sia rispettosa dei propri figli che noi vogliamo che rimangano qui in Italia questo è il mio sogno e il motivo per il quale io faccio politica ne ho tre di figli non vorrei che andassero all'estero ma che sia anche rispettata dalle nazioni ovviamente a livello internazionale un minuto la risposta del professor Sileri poi andiamo alla nostra chiusura noi siamo per l'Europa va un po' ritrattato ciò che è stato il patto di bilancio per non possiamo stare sotto l'Europa che ci obbliga con dei parametri che impediscono gli investimenti questi vanno rimodulati dobbiamo alzare la voce fare la voce grossa in Europa perché noi siamo una potenza in Europa siamo sempre stati trattati di serie B soprattutto a causa dei governi precedenti per quanto poi riguarda l'immigrazione perché prima non ho potuto aggiungere nulla sull'immigrazione questi furti e queste cose che apparentemente vengono a causa dell'immigrazione vorrei solo far presente che la corruzione in Italia non la fanno gli immigrati ma la fanno gli italiani e tanto per dirne una in sanità la corruzione pesa sul 6% del budget sanitario annuale che sono 6 miliardi di euro quindi francamente dovremmo parlare di queste cose e non ho tirato fuori io il problema dei rimborsi a dire il vero allora un minuto manca solo un minuto quindi 30 secondi a testa spiegate perché si deve votare centrodestra perché si deve votare Movimento 5 Stelle Mennuni allora Mennuni per quanto riguarda Fratelli d'Italia noi abbiamo delle idee delle ricette molto chiare abbiamo candidato tutte persone che comunque hanno diciamo una gavetta provengono dal territorio e quindi riescono a comprendere quali sono ricadute delle leggi che andrebbero a promulgare a livello nazionale sulla vita quotidiana dei cittadini quindi sicurezza in asprimento delle pene accertamento di quella che è la pena stessa e ovviamente rinforzare le forze dell'ordine per quanto attiene alla famiglia abbiamo detto grande piano per incentivare la natalità e quindi dare un sostegno fino a 400 euro ad ogni mamma che metta al mondo un figlio nella nostra nazione il tema del lavoro per noi è assolutamente fondamentale quindi andare a creare le condizioni per restituire dignità ai cittadini e ai lavoratori 30 secondi perché siamo i propri abbiamo sforato per il professore vede i programmi sono sempre gli stessi più lavoro più soldi più sicurezza più legalità più trasparenza più merito scuola università eccetera la verità è un'altra negli ultimi 30 anni nessun governo ha fatto qualcosa un motivo per votare 5 stelle è cambiamento rivoluzione culturale si deve ripartire da zero grazie ai nostri ospiti per questo agguerrito faccia a faccia grazie a Lavinia Mennoni ovviamente in bocca al lupo e buon lavoro per questi giorni di campagna elettorale grazie in bocca al lupo per il professor Pierpaolo Sileri a tra poco Radio Radio